parlo io rispondiamo alle domande facciamo il suo giochino siamo tre ore in aeroporto dobbiamo passare un po di tempo si rispondiamo a tutto no beh all'inizio è stato un po strano però molto strano mi posso garantire che adesso tutto va di sopra della spettacola quindi molto ma molto meglio di quello che ci aspettavamo per ora vogliamo stare il più tempo possibile insieme sicuramente io voglio andare in Polinesia come vedete in intervista lei ci deve sempre lei allora io l'ho memorizzato come sempre principina come che mi chiami? il mio amore è mio facile facile grazie tante grazie tante ma abbiamo anche noi i nostri difetti vi assicuro però ci compariamo dai ci rifacciamo andare bene no non l'ho ancora conosciuta ma domani mattina siamo lì facile quindi dalla Lituania direttamente a Piantedo ma morto no non dovevamo dirlo no neanche una volta ma dai non dovevamo dirlo dopo la scelta ci sono solo guardati ci abbiamo pensato per adesso stiamo a casa mia e a settembre si vedrà ma ragazzi secondo voi chi è il più gelosa? solo io? si ma sei una falsa no è vero sei una falsa è falsa è falsa non è vero io so patch non sto geloso non c'era niente da perdonare più che altro chi è il più possibile da perdonare più che altro